Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog Allora oggi mi devo andare a fare le unghie perché sono veramente schifose cioè sono tutte... cioè da un mese passa che l'ho fatta però comunque sono schifose veramente cioè orribili e sono veramente molto indecisa è la prima volta che arrivo senza un'idea precisa di come farle e niente poi stasera avrò un concerto di Alessandra Moroso con una mia collega di lavoro e niente adesso appunto è da un'oretta che mi sono svegliata più o meno e ho fatto colazione mi sono cambiata, ho truccata proprio il minimo è essenziale anche perché poi mi truccherò meglio stasera per il concerto e niente adesso aspetto un attimo perché ho l'appuntamento alle 10 però faccio subito ad arrivare cioè ci vuole una quindicina di minuti quindi e niente vi aggiornerò con un po' di clip ovviamente c'è nel senso poi vi mostrerò meglio il concerto però insomma e le unghie ovviamente però poi per il resto della giornata ecco ci saranno un po' di clip sparse in giro per il video va bene allora mi raccomando ricordatevi di mettere tanti pollici in su e di iscrivervi al canale buon video allora ho finito adesso di fare le unghie e le ho fatte così cioè sarebbe tipo rosino rosino con un tocco argentato sì più o meno le faccio sempre corte perché dopo con cavallo eccetera eccetera non viene molto bene e niente ora torno a casa musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso mi devo truccare e così almeno poi sono pronta quasi e andiamo al concerto. Grazie a tutti. Allora, questo qua è il look. Adesso ho messo la collana, gli orecchini e questo è il trucco. E' semplicissimo perché sono proprio in ogni casa qualcosa di più a farmi i trucchi. Quindi, ecco, insomma, ecco qua. Ok, adesso suono. Sono le 17 e 51. E ci accompagno il mio ragazzo perché non lo so, non mi fido tanto a lasciare la macchina. Tant'è qua vicino da noi, insomma. E niente, a questo aspetto. Poi sopra mi trovo il giacchetto. cambio borsa perché è una repartura più piccolina con solo pochi soldi e niente. A dopo. e niente, a questo aspetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.